Mi faccio proseguire, se mi dà l'ok la regia, credo che ci sia una telefonata in diretta che magari interviene un ascoltatore, poi lo riprendiamo in discorso, poi può rispondere all'amico Lorenzo. Mi confermate? Pronto? Pronto? Sì, può alzare la voce? Sì, pronto, mi sente? Sì, pronto? Sì, io la sento, io la sento. Il suo nome? Sì, Giuseppe. Giuseppe, buonasera, vuole fare una domanda agli ospiti studio? Sì, siccome stavate parlando della Juve, io sono un anti-Juve spiegato proprio. Sono napoletano e quindi non sono d'accordo con quel signore che parlava della Juve, che i Napoli, diciamo i napoletani, insomma hanno esagerato.